Sfondata la barriera tecnica dei 1180 dollari l'oncia, per l'oro la strada è ora tutta in discesa. Anche questo lunedì, il più classico dei beni rifugio, scambiava vicino ai minimi da quattro anni a questa parte, visti sul finale di settimana scorsa. Colpa o merito dipende dai punti di vista della corsa al rialzo del dollaro. La banconota verde, già ai massimi sulle voci di un possibile rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve, continua a guadagnare su iene e euro a causa della debolezza della ripresa di Eurolandia e delle manovre di allentamento della Banca del Giappone. In calo anche l'argento a poco più di 15 dollari l'oncia.